Quarta vittoria stagionale per l'aquilana Chiara Ciuffini. Allora, Chiara, innanzitutto raccontaci com'è il percorso di gara di questa manifestazione. È un percorso molto molto bello, stupendo e molto veloce, a tratti anche molto nervoso. Però faccio complimenti all'organizzazione veramente per la sicurezza delle strade, per la tutela delle strade. Veramente complimenti. Ho ritrovato i miei stimoli mentali, si sa che la testa è il motore di tutto, quindi ho molta voglia quest'anno, molta voglia di gareggiare, ma soprattutto di tornare a divertirmi nel mio mondo. È stata sicuramente la mia maratona nelle Dolomiti, però diciamo che ogni domenica mi regala grandissime emozioni, per un motivo o per l'altro sono sempre molto molto emozionata. Parteciperò con la voglia di divertirmi anche lì e spero di onorarla di nuovo al meglio. Forse non sono preparata come allora, però non importa, io voglio esserci lì perché comunque è una grandissima manifestazione. Ho la grandissima fortuna di essere un ambassador special, è davvero per me un grande onore, li ringrazio ogni volta per la possibilità che mi danno perché davvero non è così scontato. Mi danno tanto, io spero di dare a loro altrettanto.